Abbiamo ascoltato l'annuncio da parte del Ministro per gli Affari Regionali di voler spingere l'acceleratore sul processo dell'autonomia differenziata. Noi non siamo contro il federalismo, ma vogliamo che ci siano dei paletti molto forti. Innanzitutto i livelli essenziali delle prestazioni, quello il primo paletto deve essere realizzato, non si può rinviare e nel frattempo invece rafforzare ulteriormente le regioni. Perché si rischia di spaccare l'Italia se si rafforzano solo le regioni del nord, sono quelle che stanno dialogando con il Ministro per questo scopo, e non si adottano invece quei servizi che sono essenziali per la popolazione in tutta Italia, quindi soprattutto al sud. Aumentare il divario sarebbe un gravissimo danno. Peraltro l'altro paletto è il fondo di perequazione. Quindi livelli essenziali delle prestazioni e fondo di perequazione viene prima rispetto all'autonomia, al processo di autonomia differenziata. Ma di questo vogliamo parlare con le associazioni dei comuni, con le università, con le categorie, con i sindacati. Perché se non si ascolta il territorio anche, non si può arrivare come regione ad una determinazione ufficiale che giunga delle iniziative ufficiali. E questo lo facciamo anche con i capigruppo perché è importante ascoltare tutte le posizioni. Il processo di autonomia differenziata per tutto il Paese non può essere calato dall'alto. Ha bisogno di una riflessione che riguardi tutti i cittadini. Quindi ha bisogno di un grande processo partecipativo. Oggi cominciamo e ascoltiamo. E poi decideremo insieme ai capigruppo, nelle commissioni, con le attività istituzionali, le azioni migliori che bisognerà compiere proprio per la salvaguardia dell'unità nazionale, intesa come un luogo in cui tutti i cittadini abbiano gli stessi diritti, oltre che gli stessi doveri, e abbiano la stessa funzione di servizi, in termini di servizi. Ecco, questo credo che sia fondamentale per noi ed è questo lo scopo della riunione di oggi. Ecco, proprio istruzione e sanità sono tra le materie non delegabili esclusivamente alle regioni. E lo ha dimostrato anche la commissione che organizzò il ministro Gelmini nella scorsa legislatura. Ma lo dimostrano gli studi costituzionali. Istruzione, delegare l'istruzione e la sanità significherebbe creare altre regioni a statuto speciale. E quindi siamo distanti dalla logica del federalismo voluta invece dalla Costituzione. Noi abbiamo bisogno di ottenere in primo luogo una unità nazionale sul piano dei servizi. Poi possiamo ragionare di materie che si possono ulteriormente specificare in carico alle regioni. Ma abbiamo bisogno anche di un fondo di perequazione che superi i divari, fino a che rimangono i divari, come si può rafforzare quelle regioni che oggi sono più forti. È una contraddizione in termini ed è per questa ragione che dirle in positivo, federalismo, c'è il titolo quinto della Costituzione. Ma ci sono anche quegli articoli nella Costituzione che prevedono l'uguaglianza dei cittadini, il diritto di accesso alle cure per tutti, per tutti con i servizi garantiti. Invece tutte le bozze che sono circolate relativamente all'autonomia differenziata parlano ancora di spesa storica. Ma la spesa storica è proprio quella che danneggia le regioni del Sud. Anche la nostra, in particolare vorrei dire la nostra, la spesa storica è il criterio che più aumenta il divario. Quindi prima superiamo questo criterio. E in qualche modo il Ministro Calderoli, quando fece la legge sul federalismo fiscale, partiva proprio dall'idea che bisognava superare la spesa storica. Allora oggi siamo in tempo ancora per ragionare insieme al Governo di criteri che siano di una maggiore equità, di una maggiore uguaglianza e di spingere l'acceleratore proprio sui livelli essenziali delle prestazioni, piuttosto che invece sulla differenziazione ulteriore a vantaggio di alcune regioni. Certamente quello è lo spirito del federalismo, ma appunto garantendo prima i livelli essenziali delle prestazioni, cioè che cosa dimostra anche la necessità di agire con i livelli essenziali delle prestazioni e il fondo di perequazione all'interno di un processo federalista e quello che spinge gli amministratori a spendere al meglio le risorse che hanno. A spenderle al meglio, ma a partire da una possibilità di spesa. Se tu non hai le risorse, effettivamente come le altre regioni, e questo per esempio succede rispetto alla sanità, tra Emilia-Romagna e Puglia, per dire due regioni che hanno una popolazione in parte diversa, c'è una differenza enorme di trasferimento di risorse sul piano sanitario, perché la spesa storica agevola l'Emilia-Romagna rispetto alla Puglia. Allora come si fa a dire che si agevolano partendo dall'autonomia differenziata le regioni meno sprecone? Risolviamo prima l'altro problema e poi contemporaneamente ragioniamo anche di responsabilità amministrativa. La Puglia le risorse le spende, spende i fondi europei, noi abbiamo una premialità costante, ma rispetto alle risorse nazionali vogliamo discutere di sanità, di istruzione, ma di servizi con riferimento effettivo ai LEP, i livelli essenziali delle prestazioni? È dimostrato che i livelli non sono uguali e non si può rinviare questo argomento. Non c'è prima il rafforzamento dell'autonomia delle regioni del nord, se poi si vogliono conservare le tasse all'interno di quelle regioni per poter ulteriormente aumentare i servizi che già ci sono. Bisogna superare il divario, lo dice anche l'Unione Europea, lo sapete. Il PNRR è calibrato su questo, il PNRR è calibrato sulla direttrice del superamento dei divari territoriali e dei divari sociali e quindi questa è la direttiva fondamentale che bisogna seguire. Dopodiché però questo elemento noi lo dobbiamo confrontare con le forze politiche che si edono nel Consiglio regionale, lo dobbiamo confrontare, e questo è anche il mio ruolo, nel mio ruolo di Presidente lo dobbiamo confrontare con le forze delle categorie economiche e sociali che sono in Puglia e quindi con i sindacati, con le associazioni di categoria, con anche un gruppo di costituzionalisti che sono presso le nostre università e che sono particolarmente formati su questi temi. Voglio dire che quello che ha detto il Vice Ministro Sisto è incoraggiante perché ha sostenuto appunto che bisogna puntare sui livelli essenziali delle prestazioni prima di procedere all'autonomia differenziata. Ecco, mettere a confronto tutte le tesi è utile per poter arrivare anche ad una posizione della nostra regione che non sia calata dall'alto ma che sia appunto condivisa anche con i cittadini, con i territori.